Vediamo se riconosci questo ex giocatore dell'Inter di qualche anno fa. Ti dà un indizio. Doveva diventare il nuovo Zlatan Ibrahimovic, una grandissima promessa del settore giovanile nerazzurro. La sua carriera però ha preso una piega nettamente differente. Sì, sto parlando di Goran Slavkowski, ex attaccante classe 1989, forte fisicamente e per anni detentore anche di un importante record. Con Roberto Mancini in panchina nel 2006, infatti è diventato il più giovane debuttante con la maglia dell'Inter a 17 anni e un mese, battendo addirittura Beppe Bergomi. Purtroppo però non ha mai mantenuto le promesse. Anche per problemi di ambientamento a certi livelli. Qualche avventura a livelli un po' più bassi e poi ha fatto completamente perdere le sue tracce. Di recente poi è riapparsa questa foto e qualcuno dice che sia diventato un bodybuilder. Per altre storie e notizie sull'Inter, iscriviti al canale!